Fate silenzio, per favore. Siate gentili. Lasciamo spazio a ciò che solo la musica può dire. Tutto verrà a galla, un poco alla volta. Quali misteri abitano i miei occhi? È semplice. Le cose d'amore. No, non ci sono storie di relazioni segrete o aneddoti con nomi e cognomi degni di una cortigiana. Non c'è nemmeno il mio nome. Non sono qui per dirvi chi sono, non è importante. Vi chiedo solo di tacere, di stare ad ascoltarmi. Con la mia musica vi accompagnerò nel viaggio del mio cuore. Amore e morte, inscindibili fratelli come luce ed ombra che segnano il mio volto, facce di una stessa medaglia che eternamente narro di casa in casa. Ora posso stare, per sempre, sorpreso da qualcosa che voi non conoscerete mai. Ma per molto tempo il mio destino è stato quello di viandante. No, non sono un menestrello, lo capite bene anche voi. Se ben guardate, la mia camicia è bianca, nero il giuppone, cappello e risvolto di pelliccia vi rendono note le mie nobili origini. Solo che, da quando il signor Savoldo mi ha imprigionato sulla tela, con gioia o contro volontà sono stato portato per il mondo, in dimore bellissime, ma fino ad ora instabili. Mi ammirava il cardinale Richelieu nella sua collezione, poi la di lui illustre nipote e duchessa de Guillaume, che mi vendette oltre manica al nobilissimo Sir William Orcher. Dall'Inghilterra all'America il passo fu breve, così mi ritrovai oltreoceano. Arrivò, infine, il tempo di tornare a casa nella terra natia di chi mi dipinse e qui il resto. Vi racconto i miei viaggi per dirvi quanto nella mia vita ho visto, quante passioni, vicende, amori, sì, anche amori, si sono fissati nei miei occhi. Ho visto tutto, dalla mia posizione privilegiata, indisturbato, ho ascoltato parole di ogni lingua, espressioni di ogni passione, stralci, frammenti, dei moti dell'anima, e ho potuto trattenere, fissare, elaborare ciò che ora trasformo in musica. Ma non sarò da solo, e n'arrivo chi ama, chi sa guidarmi tra le note, colui al quale è legato il mio destino. Guardate, guardate bene, davanti a me un libro musicale, la mia parte, ma sulla parete un altro spartito, la polifonia del due, la meraviglia di due voci che si intrecciano in un unico canto. Perché? Volete la risposta? Allora concentratevi meglio, sta tutto scritto lì, nero su bianco, sul foglio appeso, nome e cognome. Ebbene sì, il mio compagno altri non è che colui che mi ritrasse, Ioannes Hieronymus Sauoldis Debrissia. Manca solo lui, sì perché proprio lui, il mirabile pittore, come si suole a un uomo raffinato, educato alla bellezza. Non solo era maestro del colore, ma pure di musica e del parlar d'amore. Le mie dita sono pronte, coprono i fori del flauto dolce soprano, il libro è aperto davanti a me, le voci sono perfino quattro, due per pagina. Lo attendo, perché nella sua parte voglio dir la ragione della mia malinconia. Solo le parole posso dire ora, solo il canto posso declamare. Per la musica dovete aspettare, solo un poco di pazienza. Ecco, mi sembra di averlo sentito arrivare. O morte, o là, perché mi fugi? Non lo sai, non lo so. Hai, tristo, il tuo cuore mi dà terrore, perché? Perché mi scresso un nome, amore? Che dove è lui, dal cui non fu ma acquisto? Che farò io, servì, al servire resisto, un breve spazio per troppo dolore non posso altro sopportare. Ahimè, che more! Al tuo dispecto, il disperato visto, ben poi finirti tu. Ma se mi è tolta, possa di ucciderte. Per chi in te scritto in vano, te amacerai più di una volta. Dunque, nient'altro farò. non se il predicto non lieva amore. Ahimè, quest'alma stolta, al mio dispecto, un nome mi dà il victo.